Gentili telespettatori, buona giornata. Nel governo si apre un altro scontro. Questa volta è sulla riforma della prescrizione, quindi niente è escluso dallo scontro fra PD e 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle dice chiaramente al Partito Democratico, che ancora non ha risposto bene neanche sul MES. Hanno detto mezze parole. Forse Zingaretti sta tentennando, aspettando la firma della finanziaria, l'approvazione in Parlamento per poi mandare tutto a quel paese. E Di Maio dice sulla prescrizione credo sia opportuno mettere le cose in chiaro. La nostra riforma dal 1 gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo, dice il capo politico dei 5 Stelle. Se qualcuno sbaglia deve pagare, non può farla franca perché il processo si è dilungato. Dalle dichiarazioni di ieri ho capito che il PD vorrebbe votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione come era ideata. Da Berlusconi sarebbe un Nazareno 2.0, ma avrò capito male io. Quindi Di Maio dice ma forse ho capito male. Ha ragione, nel senso non si possono annullare i progetti perché il processo è troppo lungo. Il processo deve avere una data massimo. Non può andare oltre un certo tempo, deve essere di un certo periodo massimo. Non può un processo durare 10 anni, 20 anni. E se mancano giudici si assumono giudici. Al posto che pagare il reddito di cittadinanza, con due o tre redditi di cittadinanza pagate un giudice. Non ci sono le aule. Prendete delle caserme di smesse, ce ne sono centinaia in Italia. Gli date una sistematina perché sono belle massicce, sono quelle costruite negli anni cent'anni fa, quindi hanno i muri di un metro, quindi non sono pericolanti. Gli sistemate e fate delle belle aule di processo. Mancano le carceri e le fate. Prendete sempre le caserme di smesse e fate un po' di carceri. Quindi non ci sono scuse perché i soldi li trovate per il reddito di cittadinanza, l'avete trovati. Quindi su questo io sarei d'accordo con Luigi Di Maio. Se qualcuno sbaglia deve pagare, non può farla franca perché il processo si è dilungato. Totalmente d'accordo. Intanto replica Andrea Marcucci del PD e dice Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione. Sulla prescrizione non faremo passi indietro. Non si può accettare una norma anticostituzionale come il blocco delle prescrizioni dopo il primo grado. Di giudizio non si possono sottoporre i cittadini a processi infiniti. E anche il capo del PD, Nicola Zingaretti, il segretario, interviene direttamente e dice Bonafede blocchi la riforma. Quindi abbiamo già il PD no alla riforma e Movimento 5 Stelle sì alla riforma. Movimento 5 Stelle no al MES e Zingaretti sì al MES. Zingaretti sì allo Iussoli e Di Maio dice sono scorcertato. Non se ne parla proprio nel programma. Quindi capite che queste due aree di governo, c'era stato un sondaggio anche ieri fatto da Ipsos per il Corriere della Sera, le due aree, l'area 5 Stelle e l'area PD non sono sovrapponibili in nessun caso. Cioè non c'è nessun tipo, neanche nessuna piccola sovrapposizione tra le due aree. Hanno trovato l'accordo solo sulle manette agli evasori, forse. Ma il Ministro Bonafede e il Movimento 5 Stelle non intende fare retromarcia sulla prescrizione e allora Zingaretti dice senza intese faremo una nostra proposta. Mentre Stefano Ceccanti, capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali, dice quanto alla prescrizione, se la Lega è stata disponibile a votare una norma manifestamente incostituzionale, è un conto. Ma non si può pensare che il PD, che allora si oppose con forza, non metta in campo tutte le iniziative possibili per abbatterla quanto prima. Quindi sta dicendo in maniera gentile, poi alla fine diceva abbatterla. Qui c'è proprio uno scontro. Io a questo punto mi verrebbe proprio da pensare che il governo farà la finanziaria, non credo che arriverà a gennaio a questo punto. Qui non c'è possibilità di accordo assolutamente su nulla. E Di Maio dice o si fa così o cade, o sul MES. Il MES non passa o cade il governo. Adesso sta dicendo attenzione, la prescrizione a gennaio sarà legge. Quindi da parte del Movimento 5 Stelle non c'è nessuna volontà di dialogare col PD. Anche perché il Movimento 5 Stelle non vuole dialogare col PD. Sono dei compagni di viaggio che servono per i voti e basta. I parlamentari e i senatori del Movimento 5 Stelle hanno sempre detto che Di Maio considera i senatori e i parlamentari dei 5 Stelle come solo dei pigiabottoni da eseguire gli ordini. Di Maio non pensa solo adesso ai 5 Stelle e senatori parlamentari come pigiabottoni. Pensa del PD che siano dei compagni di viaggio perché non se ne poteva trovare un altro, quindi sono seduti a fianco ma non devono dire niente. Devono stare zitti perché questo è il governo 5 Stelle, non è il governo 5 Stelle PD. Quanto il PD potrà reggere a questa umiliazione continua? Già un partito con poca identità, come dice Calenda, Renzi, la Bellanova, un partito con poca identità, quasi nulla perché i contenuti sono solo lo Iussoli, in questo caso con questa alleanza con il Movimento 5 Stelle corre il rischio di aver calpestata anche quella dignità di partito. Forse è meglio stare all'opposizione o meglio andare ad elezioni e recuperare la dignità di fronte ai vostri elettori che insistere in questa specie di sposalizio che è assolutamente devastante. Poi aggiunge Zingaretti il ministro Bonafede è rimasto al suo posto ma qualcuno lo avvisi che la maggioranza è cambiata. Avete sentito la minaccia? Tu sei uno di quelli che è rimasto al suo posto. Capito? La maggioranza è cambiata, mi stanno facendo capire. Il fatto che la norma manifestamente incostituzionale possa essere operativa dal 1 gennaio non è un argomento per tenerla lì. L'accettazione della politica dei fatti compiuti apparteneva a Chamberlain e della Eder. Però, senti attenzione, se questa legge è voluta dalla Lega non può essere incostituzionale. Ve lo spiego. È molto semplice. Una legge, qualunque sia, non può essere incostituzionale. Perché? Le leggi vanno alla firma del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, col suo staff di avvocati costituzionaliste, giuristi, eccetera, esamina la legge ed ha il suo via libera, se è costituzionalmente parlando, corretta. E dice no, questa legge è incostituzionale, è la rigetta senza la firma del capo dello Stato. Senza la firma del capo dello Stato non può diventare legge, è solo una proposta di legge. O va modificata o non passa. E' proprio questa la figura di Sergio Mattarella, il capo dello Stato, è proprio un organo costituzionale voluto dai padri fondatori della Repubblica Italiana dopo la monarchia, che ha messo il Presidente della Repubblica come un organo di garanzia. Non è un organo politico attivo, è una figura di rappresentanza e di garanzia per la Costituzione e la democrazia. Quindi non può essere una legge incostituzionale. Se sarà incostituzionale, Mattarella non la firmerà. Come dicevano, incostituzionale il decreto sicurezza bis. Il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, votato da 5 Stelle e del governo Conte 1, non era incostituzionale. Aveva delle osservazioni su alcune cose, ma le osservazioni non vuol dire che è incostituzionale. Ad esempio, un'osservazione di Mattarella sul decreto sicurezza bis era quella, ma c'è una multa che va da 250 mila euro a un milione, com'è che si calcola chi prende 300 mila, chi prende 500 mila? Cos'è? A discrezione del prefetto, di chi? Quindi dice, ci sono alcune, questa è la prima che mi ricordo, ci sono alcune modifiche dei consigli, perché il decreto sicurezza bis è stato firmato ed è legge. non è prima lo modifichi e poi diventa legge. Il decreto sicurezza bis è legge. E poi con dei suggerimenti da parte del capo dello Stato, guardate che secondo me ci vorrebbero queste piccole modifiche che non compromette la legge, sempre legge E. Sta di fatto che quelle modifiche volute da Mattarella ancora non sono state fatte. Quindi la legge sulla prescrizione che dicono manifestamente incostituzionale lo deciderà il capo dello Stato. Se è incostituzionale la respingerà, se non è incostituzionale andrà avanti. Mentre Italia vive ancora più dura. Sulla prescrizione, se non ci sarà accordo, voteremo il DDL di Enrico Costa, persona saggia e già viceministro alla giustizia del mio governo, dice Renzi. Buona fede può cambiare la sua legge, ma non può pretendere di cambiare le nostre idee. Mentre il senatore Davide Faraone va oltre e dice se il governo continua a restare vago su questo punto, noi voteremo sicuramente con forza Italia contro il progetto della prescrizione killer. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, non costa nulla, è gratuita l'iscrizione, ma con l'iscrizione potete partecipare a tanti sondaggi che ci sono nella community del canale e anche commentarli. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie, dove trovate tutti gli stessi video che sono presenti su YouTube, potete assolutamente condividerli con chiunque e ovunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.